Nella Cattedrale di Acireale, lunedì con inizio alle ore 17, avrà luogo l'Assemblea Sinodale Diocesana per conoscere le nuove indicazioni pastorali da attuare nel corso dei prossimi mesi. Nell'occasione la comunità ringrazierà il Signore per la ricorrenza del dodicesimo anniversario di ordinazione episcopale del Vescovo Monsignor Antonino Raspanti. Sarà presente Don Vittorio Rocca, che avrà modo di esporre il percorso del cammino sinodale giunto alla fase sapienziale. Dopo l'annuncio da parte di Monsignor Raspanti delle indicazioni pastorali per il nuovo anno e l'intervento di Don Rocca, alle 19 è prevista la celebrazione della Messa di ringraziamento. In effetti l'anniversario dell'arrivo della Diocesi Dieci Reale del prelato cade il primo di ottobre, ma essendo domenica in questa tornata non si sarebbe potuta garantire la consueta presenza di sacerdote laici impegnati nelle loro comunità per il giorno festivo. Il tema che si andrà ad affrontare per il nuovo anno è Una Chiesa che cammina con tutti, con l'invito di Monsignor Raspanti ad essere tutti un insieme unico, rifacendosi in dal senso all'episodio evangelico dei discepoli di Emmaus. Il vicario generale Monsignor Agostino Russo, affidando i lavori e il percorso da intraprendere per il nuovo anno pastorale al Cuore Immacolato di Maria e alla Patrona Santa Venera, a modo di aggiungere. Il Vescovo, ben a ragione, ha pensato di indire una visita pastorale per tutta la Diocesi. Chiaramente la farà a poco a poco, perché gli impegni sono tanti, però da più parte è messa questa esigenza che il nostro Vescovo come pastore possa essere in mezzo ai suoi fedeli e possa fare percepire la sua presenza, la sua vicinanza, che possa realizzare quello che abbiamo scritto, abbiamo pensato come tema dell'anno, una Chiesa che cammina con tutti. Allora vogliamo veramente fare in modo che questo si realizzi nella concretezza, nella vita di ogni giorno, che veramente possiamo dare testimonianza, preti e laici con a capo il nostro Vescovo, testimonianza di voler veramente camminare insieme.